allora signore guardate un attimo la ruota di Belisario, ancora non l'ho fatta perché volevo fare gli spurgiolamenti, lo volevo fare gli spurgiolamenti in live, non insieme a voi perché volevo dire a tutti che facciamo la maxata di Belisario in live stasera ho tutte le teste, quasi tutte, fra un po' le prenderemo tutte le teste quindi stasera su Twitch, sito superiore dalle 21.05 in avanti troverete la live del bastone, del capobastone ufficial channel ma non sono qua per fare questi spurgiolamenti adesso adesso vi voglio farvi vedere una mail che hanno mandato i 60 ct cioè scusa se è poco, scusa se è poco vedete, ve lo inquadro perché alcuni di voi hanno problemi psinnottici agli occhi guardate, 60 ct c will, cioè vedete, guardate che roba Belisario will, vedete, Belisario will allora cosa c'è scritto qua, a parte l'idiocrame cinesi che non ci capisci una minchia andiamo sotto, vediamo c'è scritto, c'è scritto, ha spettato un attimo che cambia tono vocale se no non c'è capito un gazz allora, Belisario tips, consigli su Belisario raccomandiamo a tutti di investire su Belisario maxarlo prima o dopo e Overleaks members, cioè i membri della Lega di Osiride devono essere pronti a expertise in ogni momento expertise cioè dovete renderlo maxato expertise Belisario è un must per lo swarming definitivamente necessario per la intensità del nostro KVK quindi, cosa ti dice qua? ti dice, per la terza marcia, cavalleria, Xiang Yu, Belisario per lo swarming, Uo, Belisario, Xiang Yu, Belisario ma come? ma come? non riesco a capire ma come? ma nella comunità italiana hanno detto che la cavalleria è fuori meta è fuori meta, lo dicono tutti che è fuori meta ma come? Xiang Yu, Xiang Yu che è uscita dieci anni fa ma come? ma come è possibile? ma questo sono i 60 CT ma questo non c'è, è incomprensibile non è possibile che i 60 CT stiano consigliando Belisario e che sia anche io ma come è possibile? ma come è possibile? io ci credo alla comunità italiana che spara un sacco di stronzette va bene, ma ton, ma ton ma allora io sto non lo faccio più, non lo faccio più ecco, ma mi ritiro, mi ritiro ma, 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 ma sceglierò, non so penso di fare Edoardo di Vusto guarda, lo cambio lo cambio, non lo faccio più non lo faccio più perché la comunità italiana mi ha detto che Belisario fa schifo quindi me lo cambio non lo faccio più me lo cambio me lo cambio quindi cari amici cari amici invece di dire stronzate invece di dire minchiate qui siamo di fronte a una mail dei 60 GT che è una mail di tutto il regno che consiglia a tutti di investire su Belisario e di metterlo addirittura con Xiang Yu cioè voi immaginate immaginate cosa vuol dire ricevere una mail e farla vedere a tutta la community di lobotomizzati del web cari amici allora non c'è niente di male a essere dei completi imbecilli cioè cosa voglio dire non c'è niente di male a non sapere nulla di questo gioco perché anche io nei primi video ero convinto di una cosa folle cioè ero convinto addirittura che eh dovessi tenere attivo la velocità di costruzione per tutta la notte per avanzare e rendere più veloce la costruzione quando in realtà sappiamo tutti che questa reliquia serve solamente nel momento in cui avvii la costruzione ma non c'è niente di male cos'è che c'è di male di male c'è quando uno è un ignorante analfabeta spara minchiate e tenta di insegnare agli altri cose che lui stesso non sa e quindi questa cosa questa follia tutta italiana purtroppo sta creando dei problemi per tutti quei poveri giocatori che credono alle alle minchiate che vengono dette in numerosi video porcilaio quindi ragazzi qua ci abbiamo la prova non che sia non che fosse necessaria perché lo sapete benissimo che prove necessarie ve le do già io il primary e altra gente competente che Belisario sempre a patto che voi abbiate Nevsky Giovanna Uo e Guglielmo è necessario dalla terza marcia in su cioè addirittura i 60 GT fanno la terza marcia cavalleria Xian Yu Belisario Xian Yu ragazzi stiamo parlando di Xian Yu che nessuno l'ha sempre l'hanno tutti sconsigliato è vecchio è fuori meta è fuori meta ma fuori meta di che cosa fuori meta di che cosa bisogna utilizzare l'intelligenza bisogna essere furbi bisogna essere saggi bisogna costruire la propria formazione di marcia cioè le 3 4 5 marce vostre con un'intelligenza per fare in modo che tutte insieme si sviluppino bene e diventino forti che siano coese nel combattimento che si crei più danni rispetto che al riempimento del proprio ospedale bisogna usare l'intelligenza come ho detto non c'è niente di male a essere dei caproni in questo gioco nessuno nasce imparato però almeno evitate di dire le cazzate evitate di sparare merda sulla cavalleria semplicemente perché siete dei completi imbecilli questo è semplicemente il succo del discorso quindi dopo che ve l'ho detto io dopo che ve l'ha detto il primario dopo che ve l'hanno detto i 60GT quindi i 60GT con una mail del regno che ringrazio Fedale per avermela mandata hanno mandato a tutti una mail del regno vedete per il regno la mandata e hanno detto di consigliano assolutamente di investire su Belisario I recommend everyone to invest a un Belisario maxarlo il più presto possibile e per i membri del Over League cioè Olympia League members devono essere pronti a expertise in tutti i momenti in tutti in any time quindi ve lo dicono anche i 60GT che sono al top della catena alimentare di questo gioco folle e psichiatrico allora dopo aver sentito questo abbiamo sbugiardato gli incompetenti analfabeti abbiamo riportato Belisario dove merita di essere quindi un membro un pezzo importantissimo fondamentale per la cavalleria da 4-5 marce perché poi se scoreggiate potete arrivare anche a 6-7 marce però è un membro fondamentale perché fa un casino di danni se ovviamente lo giocate e lo maxate in maniera intelligente rapida e veloce cioè i 60GT raccomandano di maxare tutti Belisario prima possibile soprattutto per i giocatori di Olimpia League i giocatori di Olimpia League devono averlo i 60GT oh l'hanno dato i 60GT non lo dice Capobastone che è di parte dice vabbè Capobastone è di parte ovvio che offendo la cavalleria no te lo sto dicendo un 60GT scusa se è poco scusa se è poco non lo faccio più non lo faccio più quindi ragazzi stasera dalle ore 21.05 tutti i live precisi perché mi sto trattenendo mi sto mangiando le mani dallo schiacciare il tasto gratis perché sbloccheremo Belisario in diretta live e quasi lo maxeremo quasi purtroppo non posso maxarlo perché mi mancano pochissime teste ne ho 643 me ne mancano pochissime altre però preparatevi perché lo faremo bello tosto e poi ovviamente c'è il gusto di girare la ruota magari se mi becco anche qualche testa dalla ruota non è non è male magari una da 8 chissà cosa capiterà lo sto facendo per voi eh solo per stasera signori stasera dalle ore 21.05 non vi perdete la live su twitch perché sbloccheremo e quasi maxeremo Belisario Prime saluti sibarittici e catafratti a tutti saluti saluti saluti